ciao caro spirito eterno una buona notizia per te e per me secondo me questo è un periodo favorevole magari qualcuno dice di no io dico che questo periodo favorevole perché dal tempo dell'antica roma l'impero romano la logica del potere era dividere per controllare in latino era divide et impera cioè se vuoi imperare o controllare comandare regnare devi dividere oggi da qualcosa siamo uniti adesso siamo uniti da internet dalla rete di comunicazione c'è qualcuno che dice che su internet c'è insulti ma anche a me me ne hanno dati commenti negativi o sceni però c'è anche la possibilità di comunicare quindi adesso io e te stiamo comunicando se poi vuoi comunicare perché ho tolto i commenti sotto perché potevano andare anche ad altri cioè offendere anche chi guarda i video invece se vuoi comunicare mi puoi scrivere e io rispondo il punto è che questo momento permette di fare ricerche veloci su tutti gli argomenti uno prostata ad esempio uno vuole andare a formarsi polmoni pressione alta ricette vegane tutto un universo su internet di informazioni che ci riguardano che sono utili allora io dico che questo è un periodo favorevole un periodo storico favorevole perché possiamo creare abbiamo i mezzi di comunicazione e bisogna capire come usare i mezzi comunicazione cioè i mezzi ci sono uno può comunicare cose sbagliate offese non sensi ma può anche comunicare esperienze realizzazioni conoscenze perché ogni esperienza individuale quindi ognuno quando comunica la propria esperienza soprattutto le esperienze spirituali arricchisce gli altri da quando esiste internet non è tanto oramai sono solo vent'anni che proprio le persone del mondo usano internet tanti hanno avuto un'esperienza di premorte cioè sono stati in un periodo di coma di animazione sospesa si è fermato il cuore il partito e hanno raccontato su internet l'esperienza che è un'esperienza comune ad altri magari cento anni fa uno aveva un'esperienza in quel genere ma anche 50 anni fa a chi lo raccontava io ho scritto un libro incontro con la chiara luce in cui parlo il grande viaggio di andate ritornando al di là se se mi scrivi posso esserti utile perché racconto la mia esperienza un'altra cosa che qualcuno più di uno mi ha scritto ringraziandomi mi ha scritto quaggio punto cerquetti chioccio al libero punto it è per un consiglio che ho dato in alcuni video che era quello ogni tanto fermati e respira consapevolmente cioè stai lì solo respirare questo ogni tanto può essere mai ti svegli di notte non riesce a dormire oppure ti svegli ma non hai proprio voglia di alzarti oppure hai qualche minuto libero respira 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 consapevolmente questa è una grande meditazione un grande esercizio energia dentro problemi fuori poi lascia scorrere amore buona energia puoi farlo possiamo farlo facciamolo spesso e volentieri quindi sono convinto che questo ti fa bene a me può far bene anche a te sono convinto che in questo periodo tante informazioni utili le possiamo andare a prendere il grande maestro babaji diceva che vivere in questo mondo materiale faceva l'esercizio di una formica è come se uno trovasse sparpagliato centinaia di granelli di zucchero in mezzo a migliaia di granelli di sabbia allora dice che cosa fa la formica non si scoraggia la formica va la prende solo i granelli di zucchero un esempio no? quindi noi dobbiamo imparare a prendere il nettare il meglio trovare in ogni persona che incontriamo almeno una qualità non è che dobbiamo accettare tutto o negare tutto almeno una qualità e allora questo ci renderà ricchi perché in ogni persona possiamo trovare una qualità e poi che cosa è? come ti saluto? ti saluto così guarda così con gioia con amore il viaggio continua per me eternità vita viaggio sono sinonimi l'eternità è un grande viaggio l'esperienza umana è un piccolo viaggio all'interno del grande viaggio però in ogni tempo luogo e circostanza con gioia con amore il viaggio continua e ripeto questo è un periodo molto favorevole per capire che il viaggio continua e ripeto questo è un periodo molto favorevole per capire che il viaggio è un po' di più